Il numero 5 viene bloccato, guarda è bloccato ma si chiama French Ninja viene chiamato di solito combatte con Giappila questo ha fatto male questo ha fatto male non vuole andare giù il numero 6 c'è il 3 a terra ne ha perso uno c'è nessuno? questo è un vero Bukurt ah il 5 a terra c'è il 2e di Graouilly c'è il 2e di Graouilly il 4e ce ne sono ancora 2 ancora 2 5 contro 2 5 contro 2 è molto difficile l'ho visto risolversi stop 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 l'ho visto riso Grazie a tutti